Volevo fare alcune osservazioni. Il patto di stabilità tiene conto del ciclo economico, niente di rigido e brutale, le regole tengono conto delle condizioni economiche, quindi le domande di consolidamento fiscale sono più alti in un periodo buono e quando l'economia è debole invece meno. Ma sappiamo che l'Italia è una posizione speciale perché è un paese con un debito molto elevato e è critico che il debito non cominci di nuovamente a crescere, quindi dobbiamo definire il nostro atteggiamento in questo contesto. Quindi è essenziale applicare una strategia a medio termine credibile a partire dal 2019 naturalmente, ma in primavera dobbiamo riflettere al 2020.